Allora, Rock Sofia nasce da un'idea che abbiamo condiviso io e Manzoni Idee, qui al Teatro Manzoni, di mettere insieme, di creare questo simoro, no? Rock Sofia mette insieme due cose apparentemente così lontane tra loro. Da un lato la filosofia che cerca di interpretare i grandi fenomeni della storia del rock, questi grandi fenomeni, questi grandi nomi sono per l'appunto Elvis, i Beatles, i Queen e i Nirvana, motori dell'immaginario li definirei, cioè sono stati capaci di influenzare la cultura e la società della contemporaneità. L'approccio filosofico sta proprio nel tentativo di comprendere quali sono i concetti e le idee incarnate da questi grandi nomi. Buonasera, buonasera a tutti. Io ovviamente ringrazio Alessandro Vaccari per l'incomiabile organizzazione di questo evento, ringrazio il Teatro Manzoni dell'ospitalità e ringrazio a voi di essere venuti così numerosi a questo primo appuntamento del ciclo chiamato Rock Sofia. Allora, cominciamo a dire che cosa non sarà Rock Sofia, che solitamente è la cosa che riesce sempre meglio, a che cosa non assisterete in queste occasioni. Allora, sicuramente si tratterà di prendere in esame alcuni grandissimi nomi della storia del rock. Sapete benissimo che oggi si parte con Elvis. Se c'è una cosa che è stata molto complicata, già Alessandro lo stava dicendo, è comunque trovare quattro nomi e fare una selezione, trascurarne centinaia, perché ovviamente sarebbero stati tutti nomi degni di attenzione. Questi quattro nomi sono stati scelti anche per scandire un pochino le varie decadi del secondo dopoguerra, anni 50, anni 60, 70 e 80, fino ad arrivare agli anni 90. Ebbene, non si tratterà, vi dico subito, di ricostruire la carriera di questi grandi artisti, anche perché sarebbe uno impossibile, nel senso che ognuno di questi grandi nomi meriterebbe di per sé un ciclo di appuntamenti e di conferenze per ricostruire nella storia. Non sarà neanche una sorta di racconto di vari aneddoti, anche perché ci sono storici del rock e giornalisti musicali molto più preparati del sottoscritto che potrebbero farlo e lo fanno in maniera sicuramente migliore della mia. Poi ovviamente c'è il web e perciò chi vuole saperne di più può trovare tutto lì. D'altronde questi sono tutti nomi che sono tornati estremamente attuali. Stavete benissimo, sono nomi che hanno ispirato il cinema e la nuova serialità proprio in tempi recentissimi. Il personaggio di oggi, Elvis, ha ispirato un film, su cui non esprimerò il mio giudizio, però di Buzz Lurman, uscito di recente, che però è testimonianza del fatto che sia un'icone che sono rimaste estremamente attuali, estremamente affascinanti, continuano sicuramente a parlare ancora del presente dopo molti anni, dopo molto tempo. Ebbene, di che cosa si tratta perciò? Abbiamo detto che non si tratta della ricostruzione storica, non si tratta del racconto di aneddoti vari, in realtà si tratterà di mettere insieme questi due concetti, che sono da un lato la filosofia e dall'altro il rock. Due concetti che sembrano agli antipodi, perché quando uno pensa alla filosofia pensa giustamente al sapere nobile, quello elevato, curvi, con la schiena curva sui libri a studiare. Dall'altro il rock, che voglio dire, dal momento che si rivolge principalmente, diciamo, alle persone che sono al loro apice del loro vigore psicofisico, ovvero ai giovani, è qualcosa invece che ha molto più a che fare con una dimensione performativa, ha molto a che fare con l'energia, con la forza. Bene, mettere insieme queste due cose significa in qualche maniera cercare di comprendere questi nomi, questi fenomeni della cultura di massa, di comprenderne la capacità che hanno di incarnare, di esprimere determinati concetti. Gli stessi concetti che magari possono essere spiegati, affrontati, teorizzati, da un punto di vista verbale, argomentativo, intellettuale, e invece queste band, questi artisti, riescono a farlo attraverso non solo la musica, ma attraverso tutto il loro apparato performativo. Per farvi un esempio, e per entrare già in media stress, perché poi di cose da dire ce ne sono sempre moltissime, parlando di Elvis mi concentrerò, guardate soprattutto su tre parole chiave, che sono molto intrecciate fra loro, che sono quasi connesse una con l'altra, e che dicono molto, secondo me, anche dell'importanza che ha avuto nella cultura del Novecento Elvis Presley. Questi tre concetti sono, il primo è il concetto di origine, a cui è dedicato anche il sottotitolo dell'appuntamento di oggi, il secondo concetto è quello di corpo, il terzo concetto è quello di show, di spettacolo. Sono tre concetti molto legati fra loro e che in qualche maniera andremo a scandagliare nel corso di questo appuntamento per comprendere l'importanza che ha avuto Elvis per la cultura del Novecento. Anche perché una cosa da cui tengo particolarmente è il fatto che questi protagonisti, questi grandi personaggi, hanno una così grande importanza per la cultura del Novecento, perché a mio avviso non si sono limitati, come dicono in molti, a raccontare il mondo nel quale hanno avuto successo, come se fossero solo delle lenti di ingrandimento. Questo è vero, cioè questi sono grandi artisti che comunque non sono saputo diventare interpreti dell'epoca in cui hanno vissuto, però non si limitano a questo. Quello che a me interessa, da filosofo tra virgolette, è comprendere come questi nomi, questi artisti, il mondo non sono limitati a raccontarlo, ma l'hanno creato. Cioè Elvis ha contribuito a creare il mondo degli anni Cinquanta, i Beatles non hanno raccontato il mondo degli anni Sessanta, se lo sono inventato e hanno creato, hanno segnato l'orizzonte all'interno del quale tutti noi, nel corso delle varie generazioni, poi ci siamo trovati a pensare, a riflettere, a vedere il mondo. Cioè sono diventate veramente delle specie, non solo delle cartine di tornasole, ma proprio degli strumenti che in qualche maniera ci permettono di interpretare il mondo e di fondarlo, l'hanno costruito il mondo. E questo ad esempio l'ha fatto Elvis. A tal proposito vediamo già questa prima parola chiave, no? La prima parola chiave è quella di origine. Perché affibbiare, in qualche maniera collegare il nome di Elvis Presley all'origine? Perché sicuramente Elvis Presley è il fondatore di molte cose, in qualche maniera senza neanche ne fosse totalmente cosciente, perché sarebbe stato impossibile. Elvis è il fondatore della moderna popular music. Quando si parla di popular music c'è un pre-Elvis e un post-Elvis Presley, d'accordo? Per chi conosce il lessico filosofico saprà che in filosofia il termine origine, dal tedesco, è ursprung. E ursprung letteralmente significa salto abissale, salto assoluto. Ed è un concetto paradossale, perché l'origine è qualcosa di estremamente paradossale. E guardate, una cosa caratteristica del rock, che andremo a indagare nel corso dei nostri appuntamenti, sono proprio le connotazioni paradossali. Il rock è paradossale e contraddittorio in sé, e si presenta in maniera paradossale e contraddittoria in vario modo. Per esempio, una fra le contraddizioni che sono a fondamento del rock e che già si trova in Elvis, nell'esperienza musicale e anche esistenziale di Elvis Presley, è il paradosso dettato dal fatto che c'è un'ambiguità strutturale, perché il rock nasce come linguaggio di ribellione, nasce attraverso sonorità audaci, potenti, e in qualche maniera nasce come linguaggio di sovversione, anche di rivoluzione nei confronti dell'autorità costituita, ma allo stesso tempo, nello stesso identico istante, fin dalle origini, il rock nasce all'interno del meccanismo della musica commerciale. Il rock è diventato il motore più potente dell'immaginario, è diventato il motore più potente dell'industria dello spettacolo. E questi due momenti sembrano in contraddizione fra loro, ma ripeto, il paradosso bisogna tenerlo presente, i filosofi, gli interpreti culturali, i filosofi non cercano di risolvere le contraddizioni o i paradossi, ma cercano proprio di cavalcarli, di insistere su questi paradossi. Questo è un paradosso di partenza del rock, lo ritroveremo nel corso delle varie epoche e perciò dei vari artisti. E questo paradosso lo troviamo già in Elvis, in qualche maniera, come vedremo. Perché? Perché in qualche maniera, e questo paradosso è anche il paradosso che ha l'affondamento anche del concetto di origine. Perché ripeto, c'è una popular music pre Elvis e post Elvis. Elvis in qualche maniera contiene già molti degli elementi che caratterizzeranno non solo la storia del rock, ma anche la storia del pop in quanto genere. Vi dicevo che i concetti sono molto legati, se uno pensa all'importanza che dà Elvis all'elemento performativo, all'elemento del corpo, che sarà preso da tutte le coreografie della musica pop e anche di molti interpreti del rock, insomma questo è già un elemento di rottura profondissima rispetto al passato. Perciò l'origine, però perché è paradossale, perché quando uno parla di salto assoluto da qualche parte tu devi saltare, no? Perciò qualcosa prima c'era. E cosa c'era prima di Elvis? Prima di Elvis la popular music era rappresentata in particolar modo dalla musica nera americana, perciò sicuramente non ci sarebbe stato Elvis senza l'esperienza del blues, ma anche senza l'esperienza della musica bianca, del folk, del country. E ovviamente questo non basta a giustificare l'importanza di Elvis, come se Elvis fosse stata una sorta di sintesi di questi elementi che lo precedono, no? In realtà con Elvis c'è proprio la nascita di qualcosa di nuovo, allo stesso tempo però paradossale, perché per quanto sia la nascita di qualcosa di nuovo comunque si aggancia a qualcosa che c'era prima, ripeto. E l'origine di tutto allo stesso tempo c'era qualcosa prima di lui, questo è il paradosso, ovviamente il concetto di origine. E per Elvis è così, perché il profilo fondativo di Elvis Presley in qualche maniera ci dice che essendo un fenomeno fondativo il primissimo della cultura del moderno, del rock'n'roll e perciò del rock, è come se avesse in sé condensati tutti gli elementi che poi si sarebbero sviluppati in maniera diversificata e articolata nel corso dei decenni. È come se li contenesse tutti. Ci sono tutti gli elementi che poi si sarebbero un po', se uno vedesse uno schema della storia del rock è come se Elvis contenesse tutto e poi dopo nel corso degli anni 60, 70, 80 e 90 sono creati tutti i generi, però tutti gli elementi che poi si sono articolati, ripeto, in maniera plurale, in maniera molteplice, tutti questi erano condensati nel personaggio Elvis Presley. Proprio perché, voglio dire, quali sono gli elementi primordiali, fondativi di Elvis? Ve lo stavo dicendo, innanzitutto la prima star a raggiungere il successo a livello internazionale, quasi a voler, per quanto lui, a parte alcune date in Canada, non abbia mai fatto tour all'estero, ma questa è un'altra cosa che riguarda poi anche il modo in cui viene raccontato al film di Buzz Lurman che cerca in qualche maniera di legittimare o di recuperare moralmente la figura del colonnello Parker, però questo è un dibattito che toccheremo più avanti. Detto questo, però sicuramente è il primo grande fenomeno globale, prima ancora della globalizzazione, perciò il grande fenomeno che in qualche maniera mette in comunicazione varie parti del mondo, è la prima grande icona del dopoguerra e perciò per questo rappresenta fortemente e contribuisce a creare l'immaginario del dopoguerra degli anni Cinquanta, è il primo a coniugare la trasgressione, la trazione erotica, ma anche la grande mitologia americana e anche qui ovviamente Elvis è un personaggio profondamente paradossale, come vedremo, perché riesce a tenere insieme sia l'istintualità, la trasgressione, l'esuberanza e perciò l'elemento fisico e corporeo, ma allo stesso tempo piace a molti americani, perché il self-made man è bianco, è bianco, è bello, è l'uomo che si è fatto da solo, è l'uomo che addirittura decide a un certo punto proprio all'apice della sua carriera, del suo successo, comunque di fare il servizio militare in Europa, da carrista come vedremo, perciò tiene insieme le contraddizioni anche lui e questo piace, questo piace perché riesce comunque a comunicare a diversi livelli, è il primo per esempio a interrompere la grande tradizione dei crooner, della team panel americana, che erano tutti impostati, voci straordinarie, però a un certo punto lui fa qualcosa, guardate noi abbiamo dei fenomeni, dei personaggi che devono moltissimo a Elvis, quasi tutti devono tanto ad Elvis, però in qualche maniera la nostra esperienza, no, anche di come è cambiato, se uno pensa al Festival di Sanremo, cioè il fatto che a un certo punto i cantanti hanno cominciato a usare il corpo, se voi pensate ad Adriano Celentano, proprio dopo Elvis, come aver importato comunque in Italia un qualcosa che era stato veramente un terremoto rivoluzionario, perché muovere il corpo? Ma qui stiamo parlando di canto, di voce, perché è importante muovere il corpo? Perché questo in realtà segna una svolta profonda proprio di che cosa si concepisce per musica, la musica non è solamente il canto, non è solamente il senso dell'udito, ma è qualcosa che coinvolge tutti i sensi, tu devi essere coinvolto a livello del sistema nervoso, devi far muovere i corpi, per far muovere i corpi non basta i canti, devi agitare tu stesso il corpo, perciò origine in questi vari sensi, e ripeto, un'origine che comunque è un'origine che aveva comunque qualcosa dietro, dicevo della tradizione del country, della musica espitua, la gospel nera, insomma. Poi c'è un altro modo di concepire l'origine, che è l'origine della sua carriera, d'altronde. Chiedo ad Alessandro, se ne regia, di far vedere l'immagine. La prima, anzi, questa è la conceduta, è Graceland, a Memphis, e la seconda, grazie a Alessandro, invece, è la casa di Tupelo. Voglio dire, questa è l'origine di Elvis, non solo Elvis in quanto origine, ma l'origine di Elvis, e questo piace molto all'immaginario americano, perché l'incarnazione del sogno americano, e perciò anche il mito della rinascita dopo la tragedia della guerra, passa attraverso il racconto di una persona che vive in origini estremamente umili, estremamente umili, e da questa umiltà incredibile, comunque riesce a creare un impero, quello stesso impero di cui resterà vittima, e questo è l'elemento anche dello show. E questo è anche una cosa, quando vi dicevo, no, che questi grandi personaggi hanno un valore fondativo, se voi pensate Elvis, così come Marilyn, d'altronde, proprio in quel contesto storico, però quante volte si è ripetuta questa storia, di un personaggio che nasce da umili origini, riesce ad avere la sua rinascita, il suo riscatto sul mondo, ma poi a causa o della hubris, della dragodanza, si verifica il cosiddetto rise and fall, cioè rimangono vittime questi personaggi di loro stessi, del loro stesso successo. Elvis non è il primissimo, ma sicuramente uno dei primi, e fa coppia effettivamente con Marilyn Monroe, altro personaggio estremamente attuale, perché è tornato proprio con un film, interessante questa tendenza a recuperare questi fenomeni del passato. Simon Reynolds, importantissimo critico e giornalista musicale parla di retromania, perché è quasi un tentativo da parte anche delle nuove generazioni di recuperare fenomeni e prodotti del passato, magari mitizzandoli, perché il nostro presente, signori, non so se siete accorti, è estremamente brutto, perciò in qualche maniera c'è il tentativo di proiettare, il presente è sempre stato brutto, se vogliamo essere onesti, però il presente attuale effettivamente si candida a essere uno dei peggiori, perciò ovviamente tutti i tentativi, sia da un punto di vista cinematografico, musicale, di immaginario, di rifugiarsi in stili, simboli che sono appartenuti a epoche passate, riflette effettivamente proprio questa tendenza di fuggire dal presente, e questo tentativo di recuperare per esempio le narrazioni che hanno a che fare con personaggi di epoche passate, partecipa a che fare proprio con questa tendenza retromaniaca. Torniamo nello specifico a Elvis. Origina anche un altro senso? Sì, perché il fatto dell'elemento performativo e del corpo che si mette in mostra ha a che fare con la nascita del linguaggio videomusicale, per esempio. Ora, in realtà è sbagliato perché per molti il primo videomusicale, sappiamo, è Bohemian Rhapsody, The Queen, perché è il primo in formato video. Quelli di Elvis non sono in senso stretto videoclip musicali perché sono estratti dei film che ha girato, perché poi Elvis ha girato anche molti film, come vedremo, però sicuramente c'è una constatazione, ovvero dal momento in cui si sta parlando di una star che ha un valore internazionale o quantomeno ha un valore globale estremamente significativo, se l'artista, se Elvis va a fare un concerto a New York c'è bisogno che in California, nel frattempo, si è mantenuta l'attenzione sul personaggio e dal momento che quella è l'epoca in cui c'è la forte diffusione di quel grande elettrodomestico che è la televisione, allora si è creato anche il modo di tenere attenta l'attenzione del pubblico anche durante gli spostamenti del tour del personaggio. E perciò è la prima forma originaria del videoclip musicale, perché questo appunto permette, perciò l'artista musicale, il cantante deve sapere anche recitare. E ripeto, adesso lo diamo per ovvio, che deve essere anche un bravo interprete, e non era così ovvio, prima degli anni 50, d'accordo? C'è bisogno che sia un interprete, c'è bisogno appunto di realizzare delle clip che possono tenere alta l'attenzione del pubblico quando non ci sono i concerti. A tal proposito, Elvis è uno di quelli che ha realizzato queste prime forme di clip, ripeto, sono particolari perché sono in realtà degli estratti, perché quando uno dice video, il video è un'altra tecnologia, questi sono realizzati in pellicola e sono degli estratti dei film, che era un film musicale, realizzato a partire già dagli anni 50, poi per tutti gli anni 60, da Elvis. Il video che adesso andremo a vedere, il primo contributo video, è Jailhouse Rock del 1957, tratto dal delinquente del rock'n'roll, che si presenta già in questa maniera, il delinquente del rock'n'roll, ma allo stesso tempo, come già vi annunciavo, questo... e guardate bene anche il modo in cui viene rappresentato Elvis in questo video, perché quel gioco di paradossi e di contraddizioni riesce a tenere insieme, a contenere anche movimenti opposti, tendenze opposte, interpretazioni opposte, si nota in qualche maniera anche nel video che stiamo per vedere. Questa è Jailhouse Rock, brano che conoscete bene, mentre andava il video, non vi nascondo che stavo facendo una ricerca sul telefono, per avere conferma del fatto il 1957 è l'anno in cui Johnny Cash esegue il primo concerto in carcere. Elvis Presley non è Johnny Cash, anzi Johnny Cash in qualche maniera è sopravvissuto al suo stesso personaggio, perché ha tutt'altra attitudine, l'impegno sociale, l'interesse di Johnny Cash e di tutt'altro livello. Voi capite anche il modo in cui viene raccontato il mondo carcerario rispetto all'immaginario di Johnny Cash, che andava a suonare nelle carceri, fino agli anni Sessanta inoltrati, molto diverso da quello che vediamo qui, che è quasi una sorta di racconto anche grottesco in qualche maniera, però alcuni elementi sono interessanti per capire proprio l'efficacia del mito di Elvis, perché Elvis da un lato è il ribelle seduttivo, è il casinista che elettrizza le giovani ragazze, che muove il bacino e perciò c'è molto questa attrazione. Ma voi sapete benissimo, d'altronde, che non basta piacere solamente alle giovani generazioni, devi piacere anche ai genitori, perché poi sono i genitori fino a quando non si è maggiori anni a comprare le magliette o a portare ai concerti i minorenni o comunque a comprare i biglietti, perciò in qualche maniera l'elemento della trasgressione deve essere paradossalmente gestito, non deve essere troppo. Quando dico troppo mi viene in mente Gerry Lewis, che vorrei omaggiare perché poi è scomparso di recente. Ecco, Gerry Lewis era qualcosa di diverso, perché come dice Guaita Macchi, grandissimo storico del rock, dice Gerry Lewis era il suddista sudato, sessualmente troppo esplicito, oltraggioso, il peggior incubo dei genitori, un selvaggio dai capelli lunghi, anarchico e sensuale, che sembra violentare il pianoforte mentre urla un testo che in un esplicito doppio senso inneggia il sesso. Elvis non è Gerry Lewis, Elvis riesce in qualche maniera a tenere insieme la contraddizione, riesce a gestire bene il paradosso, non è neanche Johnny Cash e in qualche maniera già nella questa micro narrazione di questo video potrebbe risultare evidente, perché è vero che il ribelle sedutivo è il casinista, però dal momento in questo video doveva piacere pure i genitori c'è anche un elemento tipico della classe media puritana americana, nel senso che poi alla fine giustizia viene fatta e quelli che vengono addirittura picchiati, i carcerati, in qualche maniera rientrano all'interno della gattabuglia. È l'espressione della rivoluzione dei giovani bianchi contro il conformismo, che però passa non attraverso l'idealizzazione delle lotte sociali, per questo è interessante. Negli anni 50, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, per quanto erano già cominciate altre guerre, però sicuramente c'era la volontà del cosiddetto divertissement, cioè ci si voleva rilassare, attraverso anche episodi energici di questo calibro. Gli anni 60 saranno un'altra cosa, e lo sappiamo benissimo, gli anni 60 saranno un'altra cosa, sono il decennio dell'impegno. Negli anni 50, in realtà, soprattutto i prodotti della cultura di massa, effettivamente vogliono rendere più lieve, più lieto all'atmosfera, lui continuerà negli anni 60, ma è evidente che gli anni 60 non sono il suo decennio, il decennio di Elvis sono gli anni 50. Ancora nel 1960 Elvis è il più venduto, cioè ancora quello viene passato maggiormente in radio, però sapete benissimo che poi quando sarebbero arrivati i Beatles, a metà degli anni 60, la storia cambia completamente. Elvis arriva fino agli anni 70, lo sappiamo benissimo, però quello che secondo me è evidente e che da un punto di vista stilistico è anche di importanza avuto, Elvis esprime bene gli anni 50. Agli anni 70 già, come vedremo, è fuori tempo massimo. Perciò elementi contraddittori e per esempio come dice Simon Fritt, che è un autore di sociologia del rock, un classico degli studi dedicati proprio all'immaginario rock, dice Fritt, il rock and roll, perché se possiamo dare un genere a questa generazione di artisti, quella di rock and roll, che però è proprio il fenomeno originario di tutta la tradizione rock, no? Il rock and roll è una forma contraddittoria che mescola insieme orgoglio e vergogna, celebrazione e senso di colpa, rabbia e accettazione. Questo è interessante, già il rock and roll aveva questo elemento. questo. Queste contraddizioni dietro forza e sensibilità a un artista rock and roll come Elvis Presley. Come già vi annunciavo, un episodio importante della carriera di Elvis, anche per quanto riguarda il suo impatto nella comunicazione pubblica, soprattutto attraverso i media americani, è ovviamente il servizio militare. Chiederei ad Alessandro, eccole qua, alcune immagini che circolano. C'è da dire che lui l'ha fatto veramente, nel senso che a parte poi molte mitizzazioni mi sono fatte di molti personaggi che fanno finta di andare, sembra che lui abbia rinunciato a qualsiasi possibilità di rendere diciamo meno complicato il servizio, cioè poteva benissimo non dover andare in Germania, invece lui ha voluto che comunque venisse trattato come chiunque altro. Forse memore anche sempre di queste origini umili che caratterizzano la sua esperienza. Due anni in Germania durante il periodo di occupazione americana, d'altro nuova contraddizione, diceva, ammazza, allora Elvis significa proprio sì, però alla fine i suoi giorni all'esercito ispirano la pubblicazione di un album. Perciò capite benissimo, anche qui no, nel senso che può essere benissimo un gesto da stimare il fatto che lui non abbia voluto comunque avere favoritismi particolari, però poi anche la sua esperienza da carrista nell'esercito ha ispirato effettivamente l'incisione di un album e perciò anche quell'elemento della vita privata in qualche maniera rientra all'interno della grande costruzione immaginifica del personaggio. Andiamo avanti perché se questi sono gli elementi che caratterizzano il concetto di origine, molte cose già abbiamo cominciato a dirle, l'altra parola chiave, secondo me ancora più importante, è quella di corpo. Abbiamo già detto nella questione dell'origine era contenuto il fatto che per la prima volta un grande interprete non si affidasse esclusivamente all'elemento canoro, ma in qualche maniera dovesse dar spazio anche alla performance fisica corporale. Albert Goldman, che ha scritto anche dei libri biografi di diversi personaggi, molto severo nei confronti di Elvis e di molti altri, parlava di potere sciamanico quasi soprannaturale nei confronti delle platee. Questa definizione di potere sciamanico è estremamente interessante perché è come se un fenomeno della rampante industria culturale consumistica americana come Elvis Presley alla fine facesse una sorta di cerchio larghissimo che lo rimette in connessione con quelle che sono le origini autentiche della musica. Le due cose sono agli antipodi, perché qual è l'origine autentica della musica? È il ritmo. Come nasce la musica? La musica nasce attraverso il tentativo di seguire anche i suoni della natura, il battito del cuore, oppure le gocce cadono e impattano su una superficie. Il ritmo è l'origine effettivamente primitiva di qualsiasi musica. In qualche maniera anche le comunità tribali, se voi pensate. Per questo quando si parla di sciamanesimo, di potere sciamanico, la cosa mi affascina molto perché si parla di questi termini, di questi elementi a proposito di un fenomeno che ha a che fare dalla testa ai piedi col grande circuito commerciale consumista americano. Ed è come se ci fosse una connessione paradossale, ma vi ripeto che ci saranno molti paradossi nel corso di questi appuntamenti, che mettono in comunicazione l'origine primigenia della musica, il tribalismo, il primitivismo originario e un fenomeno invece della cultura dei consumi americana. E questo ovviamente è anche la ragione, perché molte di queste cose stiamo dicendo in qualche maniera sono anche le ragioni del successo, se uno ci pensa bene. Perciò comunque c'è anche una ragione antropologica che ha a che fare col successo incredibile di Elvis. Perciò il ritmo, come sempre i filosofastri utilizzano parole strane, però una parola estremamente efficace a mio avviso è quella di affezione. Che cos'è l'affezione? È qualcosa che non è la percezione, è qualcosa di più della percezione, perché l'affezione, ne parlava Spinoza, poi un concetto è stato ripreso nel Novecento, diversi autori come Deleuze, eccetera, l'affezione è la capacità dei corpi di muovere e smuovere altri corpi senza che ci sia contatto. È in qualche maniera la capacità di incidere sul sistema nervoso altrui senza che ci sia effettivamente un contatto diretto. E questa concezione di affezione, ovviamente tutta la cultura audiovisiva del Novecento, dal cinema alla televisione, ma anche i grandi fenomeni della cultura di massa, fanno proprio riferimento a questo concetto di affezione. Cioè la capacità che senza che ci sia contatto dei corpi smuovano altri corpi. Perché in realtà questi grandi fenomeni, anche nel video che abbiamo visto e quello che stiamo per vedere adesso, non si tratta tanto di testi che si riferiscono ai singoli sensi, cioè c'è l'udito, c'è la vista, in realtà c'è un coinvolgimento sinestetico che ha a che fare proprio con la capacità di coinvolgere il sistema nervoso. Quando noi andiamo a sentire questi brani di Elvis, e soprattutto adesso col prossimo, noi magari mentre ascoltiamo stiamo muovendo il piede, comunque ci muoviamo, d'accordo? C'è proprio un coinvolgimento che non ha a che fare con il contatto diretto fra me e l'immagine. Questo per esempio nel film, viene raccontato bene nel film recente, in cui le donne a un certo punto impazziscono vedendo lui che muove il bacino, ma non perché gli è stato un contatto diretto, ma solamente stando lì, un coinvolgimento che ha a che fare veramente col sistema nervoso, non è solamente la vista, ci sentiamo trasportati. Proprio in quella fase, fin dai primi passi della carriera di Elvis, una sorta di interpretazione che girava spesso fra le persone era quella di ritenerlo un bianco che cantava come un nero. E questo ovviamente oggi è brutta come definizione, però effettivamente rende bene l'idea anche perché, voglio dire, molto del rock and roll deve in quella stagione, in quella fase, alla musica nera americana. D'altronde questi sono anche gli anni di Little Richard, per dirne uno, oltretutto compara pure nel film di Buzz Lurman o dello stesso Chuck Berry che però sicuramente non erano predisposti a ricoprire il ruolo di dominio a livello di mercato globale, americano e poi globale, che poi ha avuto Elvis, perché neri, molto semplicemente. Ovviamente pure lì, come sapete, per chi c'era anche l'anno scorso, grazie soprattutto ad alcuni personaggi, a un certo punto il mercato si apre anche a figure di cantanti colori, e questo per alcuni rappresenta non tanto un traguardo, quanto in realtà un passo falso nei confronti della causa afroamericana, perché molto spesso si è piegata a delle versioni, se volete anche farsesche, perdendo di vista quella che doveva essere la lotta dei diritti civili che aveva segnato un pochino la storia degli anni 60. Comunque, tornando a noi, quello che vi dicevo è appunto la capacità che ha Elvis di creare un nuovo, se volete proprio un nuovo dispositivo in grado di comunicare con le masse e con i corpi, cioè proprio un modo diverso di concepire la musica e di elettrizzare il pubblico, d'accordo? Perciò si tratta veramente della capacità del corpo di agire su altri corpi, di muovere, di far agitare i corpi che si hanno di fronte. Ovviamente la produzione di, come sapete benissimo, la produzione di Elvis Presley annovera anche molte ballads, molte canzoni d'amore, e questo è un elemento interessante, perché non crediate che l'amore funzioni in maniera diversa dal ritmo del corpo, perché fondamentalmente anche le ballads romantiche di Elvis, anche quando lui utilizza la dimensione sentimentale e emotiva, fondamentalmente l'amore e l'innamoramento funzionano esattamente come questi brani rock and roll che sono più ritmici, significa far innamorare il pubblico, no? Far innamorare il pubblico significa in qualche maniera riuscire a coinvolgere non solo con una voce sua dente calda, ma anche l'espressione facciale, il modo in cui si fa fotografare, anche tutto quello costituisce, diciamo così, la mitizzazione del personaggio. E ovviamente che negli anni Cinquanta sia stata una stagione fondamentale per la nascita di determinate riviste, anche per tutta la cultura della fotografia di moda, e ovviamente tutto questo coincide con quello che è stato il fenomeno Elvis Presley. La terza parola di riferimento, molto legata alle prime due, ma soprattutto con quella del corpo, è la parola show, ovvero spettacolo. E quando parliamo di come la figura di Elvis abbia in qualche maniera rinnovato, fondato, ricompreso, perché esisteva pure prima lo spettacolo, se uno pensa agli anni Trenta, agli anni Venti, figuriamoci, ci sono delle cose fondamentali, però quello che accade negli anni Cinquanta è qualcosa di diverso, perché? Perché a un certo punto lo show, lo spettacolo diventa prioritario anche nei confronti dell'artista, cioè lo spettacolo deve andare, sapete, show must go on, poi parleremo pure dei Queen, perciò i Queen vengono ovviamente dopo Elvis, però questo era già presente in Elvis, e anche Marilyn, diciamo la verità, però è una cosa tipica proprio degli anni Cinquanta, d'accordo? Cioè il mito di Elvis, il self-made man, rispettoso dell'autorità, rispettoso della nazione, io mi ero ripromesso di non esprimere giudizi sul film di Buzz Lurman, però secondo me c'è un grande dibattito dietro, Grace Jones, un grandissimo musicista e produttore di Black Music, ha sempre proverato a Elvis di essere un razzista, per esempio, non mi permetterei mai di sostenere questa tesi, però è come se il film avesse avuto Buzz Lurman il tentativo di mettere in questione alcune tesi che forse erroneamente si erano diffuse, però tocca vedere quanto possono essere avvalorate, per esempio, dico tutto questo, perché ovviamente il tentativo di riabilitare il colonnello Parker è molto presente nel film, ma ricordiamoci che comunque il colonnello Parker rappresenta, non voglio dire il responsabile della fine tragica, perché è anche questo, però è stato anche il responsabile del successo di Elvis, è sempre il paradosso. Lo stesso personaggio che ha permesso a Elvis di emergere, di diventare un fenomeno globale, il fenomeno di cui parliamo noi oggi a distanza di 70 anni, d'accordo? È lo stesso personaggio che ha contribuito, ma probabilmente non poteva essere altrimenti, e questo bisogna tenere presente, e questa è la grande macchina stritolatrice del mondo dello spettacolo agli anni 50 in poi, questi due elementi non possono essere scissi, non ci poteva essere solo un Elvis che poi non si è sacrificato al mondo dello spettacolo, è la stessa cosa per Marilyn, è la stessa cosa per molti altri personaggi, e questo è il grande paradosso, e perciò senza il colonnello Parker non sarebbe esistito Elvis, d'accordo? Ma non poteva esserci qualcosa di diverso rispetto all'atteggiamento del colonnello Parker, perché, sapete bene, se Tom Parker è il manager, l'agente, che si racconta, è estremamente cinico, arrivista, profittatore, no? Che si è reso responsabile soprattutto della fase, quella decadente di Elvis, che è durata pure tanto rispetto ad altre grandi star che si sono bruciate nel giro di pochi anni, e che comunque è molto giovane Elvis, però rispetto a molti altri comunque si è fatto i suoi vent'anni più di carriera, insomma, d'accordo? Però sicuramente il colonnello Parker contribuisce alla grandezza di Elvis, ma allo stesso tempo mette in evidenza questo strano rapporto che caratterizzerà tutta la scena rock e la storia della popular music agli anni 50 e poi tra interprete e manager. guardate, si potrebbe ricostruire, se uno avesse tempo, proprio la storia del rock dagli anni 50 e poi, proprio concentrandosi su questo elemento, il rapporto fra la gente e l'interno, i manager e le varie band, con tutte le varie declinazioni e tutte le formule varie che si sono susseguite nel corso del tempo, oppure con i Beatles, per esempio, la cosa si ripropone, però con tutta altra attitudine, anche perché la mossa furba di Buzz Lurman nel film è quella di far interpretare col colonnello Parker da Tom Hanks, e Tom Hanks non è mai cattivo, perché Tom Hanks è sempre buono, insomma, è impossibile che sia cattivo Tom Hanks, d'accordo? Ma infatti il tentativo di quel film è quello di riabilitare la figura del colonnello Parker. D'altronde c'è da dire che Elvis non è John Lennon e non è Paul McCartney, è sicuramente più ingenuo, se volete, perciò sarebbe stato difficile per Elvis riuscire a scalare il mondo del successo dello spettacolo senza un agente così arrivista, così cinico, ma anche così capace. E quello che accade effettivamente con Tom Parker ha a che fare anche con il grande paradosso del rock, col dibattito che spesso si affronta a proposito del rock che ha a che fare con la genuinità, genuinità, scusate, la spontaneità degli artisti. Quanto gli artisti rock siano genuini, quanto siano spontanei e quanto in realtà non siano pilotati esternamente, non siano controllati da qualche burattinaio. Anche questo è un tema che ripercorre tutta la storia del rock, perché se voi pensate a fenomeni anche radicali come per esempio il punk alla fine degli anni 70 è un problema che si ripropone fortissimamente alla fine degli anni 80. Il punk, se ci fosse stato un ulteriore appuntamento, ovviamente noi lo bypassiamo, però è un fenomeno, quello del punk è uno dei più radicali in assoluto, che nasce proprio spudoratamente come fenomeno commerciale. I Sex Pistols erano una performance di McLaren e di Vivian Westwood che era una stilista, devono promuovere un negozio e si crearono un gruppo e crearono un genere musicale, proprio intenzionalità direttamente commerciale. E ovviamente questo è il grande paradosso del rock, ripeto, il punk sono quelli che volevano distruggere il mondo, però allo stesso tempo avevano finalità commerciali. E d'altronde è anche il rapporto che si stabilisce, si instaura fra l'esuberanza di Elvis, la sua capacità rivoluzionaria, la capacità di rivoluzionare il modo di cantare e di avere a che fare con la musica, è accompagnata invece, pilotata proprio da quelle che sono le mosse di chi c'è dietro, ovvero il colonnello Parker. Dopo, anzi dietro l'apparente trionfalismo mediatico, c'è una figura problematica, perché è un personaggio che è al contempo trionfante e decadente, rivoluzionario e allo stesso tempo anche reazionario. Un personaggio che, come lo definisce sempre Guaita Macchi, insicuro e spaccone al tempo stesso, arrogante e deferente, orgoglioso e vulnerabile. Un personaggio fatto di contraddizioni, sono tutti i paradossi che sono dietro ad Elvis. E tutto questo, per esempio, lo rappresenta bene, chiedo ad Alessandro di vedere la prossima immagine. Il genio, l'intuizione geniale di un grande artista come Warhol, che realizza questa serigrafia con Elvis negli anni Sessanta, e sapete benissimo che l'altra grande protagonista è sempre, quando si parla di Elvis spesso si accompagna Marilyn Monroe, insomma, per molte cose che hanno riguardato il loro destino, la loro vicenda personale. D'altronde a metterli in comune c'è anche l'interesse di Warhol nei confronti di questi personaggi. E lungi da Warhol o qualsiasi tipo di intenzionalità, anche di denuncia sociale, a lui non interessa assolutamente nulla. Però riesce a cogliere, magari anche senza volerlo, qualcosa che riguarda nel profondo l'animo del personaggio. Perché guardate questa sequenza di serigrafie. Siamo negli anni Sessanta. Cosa accade negli anni Sessanta? Da un punto di vista musicale, probabilmente Elvis ha fatto le cose più importanti negli anni Cinquanta, sono dei brani bellissimi quelli negli anni Sessanta, non voglio dire di no. Però accade qualcosa di strano, perché Elvis, più che Elvis, qui anche il coronello Parker, in qualche maniera sono convinti che il passo da fare sia quello di Hollywood. Cioè, finiti gli anni Cinquanta, con i primi anni Sessanta, Elvis, già ne aveva girati perché il delinquente rock'n'roll è del Cinquantasette, però molti film vengono realizzati con Elvis come attore, con Elvis Presley come attore, proprio a partire dagli anni Sessanta. C'è quasi la convinzione da parte di molti che Elvis abbia pure delle ottime qualità attoriali. Ora, non mi pronuncio neanche su questo, è evidente che i film realizzati con Elvis non siano dei grandi capolavori della storia del cinema, anche perché gli anni Sessanta sono anni di rinnovamento nella storia del cinema, perciò sono filmetti, ogni tanto passano, ma non ce n'è uno di titolo che può essere annoverato tra i grandi capolavori della storia del cinema, tra i vari musical dove c'è Elvis come attore e fa anche interprete musicali. È una via che hanno intrapreso, che non poteva che essere fallimentare, tanto che gli anni Sessanta, come già vi ho detto, non sono il decennio di Elvis. Elvis finisce con gli anni Cinquanta. Alla fine gli anni Sessanta sono una specie di strascico, prosegue il mito, che è un mito talmente grande che può continuare in qualche maniera a campare di rendita ancora per un po'. Se voi pensate al grande progetto, se ne parla molto sempre nel film, al grande progetto del TV show di Natale, del 68 mi pare, me lo sono anche segnato, il show di Natale del 68 e tutti i concerti poi fatti a Vegas, sempre voluti al colonnello Parker, avevano qualcosa già del Requiem. Non era l'esalta, voglio dire, quelli sono gli anni in cui lui ha continuato la sua carriera anche dopo che siamo sciolti i Beatles. L'ultimo concerto, tra poco vedremo l'esibizione di Elvis del 77 e lui nel corso degli anni Sessanta fa i film a Hollywood, nel 68 fa questo spettacolo che va benissimo in televisione, che però in qualche maniera è già retromaniaco nel 68. È lui che racconta a Elvis, sono tornato, sono tornato, d'accordo? Non c'è assolutamente nulla di nuovo. Il successo è garantito perché c'è tutta la generazione non aspettava altro di rivedere Elvis in televisione, uno spettacolo andò benissimo. Poi continua questo ciclo di concerti, che si fa pagare anche tantissimo, a Las Vegas, dove effettivamente però c'è qualcosa già, permettetemi il termine, di mortuario, qualcosa che già annuncia la fine tragica che sta per arrivare. E questa fine tragica in qualche maniera è seguita anche da quella che è la trasformazione del corpo. Un personaggio aveva dato così tanta importanza all'elemento impattante del corpo e anche alla dinamica performativa del corpo, la prima cosa che si va a sacrificare in qualche maniera, forse neanche la prima, perché la prima è anche la salute mentale, però sicuramente è anche il corpo che si appesantisce in vecchia prima degli anni che effettivamente ha, diventa la caricatura di se stesso Elvis, d'accordo? La gente continua ad andarlo a vedere, perché assume quasi un'apparizione quasi grottesca o farsesca in qualche maniera, la voce rimane, perciò in qualche maniera riesce, sempre con più difficoltà a portare a termine i concerti, ma voi capite quanto male si è fatto a portare avanti una carriera per così tanto tempo? Fino al 77, nella storia del mondo era successo di tutto, c'erano stati gli anni 60, Beatles, Woodstock, prima abbiamo parlato, 77 praticamente stava per arrivare il punk, gli anni 70 tutto quello che c'era stato, lui continuava a fare questi spettacoli, questi concerti in qualche maniera e diventava anche quasi un tentativo quasi titanico di voler sfidare il tempo che stava passando. E più che suo il tentativo titanico è anche quello del colonel Robarker, perché ovviamente era la sua maggiore fonte di reddito, perciò voleva che continuasse fino allo stremo assoluto, fino allo sforzo esagerato e assoluto. Perciò si tratta in qualche maniera della fine tragica di un'icona e questo è un altro elemento che, vedete quante cose ha fatto, aveva Elvis, il personaggio Elvis, che poi si sarebbero ripetute nel corso dei decenni. Declinate in vario modo, riconfigurate perché non c'è mai una cosa identica all'altra, però molte di queste cose poi le ritroveremo nel corso della storia del rock, in molti altri personaggi dopo. Elvis è il primo, li conteneva già tutti, nel bene quanto nel male, soprattutto per come è finita la sua vicenda. Però per esempio questo elemento della decadenza, il fatto di vivere gli ultimi periodi cercando appunto di tenere saldo il legame rispetto agli anni d'oro, in qualche maniera prolungare un'agonia artistica, è una cosa che si ritrova spessissimo, perché la macchina commerciale del rock è spietata. Se tu non ti rinnovi e non riesci effettivamente a trovare un modo di continuare e vuoi restare sullo stesso livello in cui si è sempre tenuto negli anni passati, quella macchina ti divora, ti getta via, ti esclude. Probabilmente la cosa migliore sarebbe stata, che poi sarebbe anche interessante capire se sarebbe potuto esistere, se poteva esistere un Elvis Presley al di fuori della macchina che aveva creato il colonnello Parker. Per questo parlo di una figura tragica, perché probabilmente non c'era alternativa. La tragedia sta proprio qui, non c'era un'alternativa, non poteva andare in maniera diversa come è andata, una cosa estremamente tragica. Un corpo sofferente che finisce vittima dello spettacolo, che lui stesso ha contribuito a creare, a inventare, calcolate che l'ultimo concerto, l'ultima esibizione live è del 77, perciò 42 anni, praticamente ha 42 anni, perché prima stiamo parlando dell'età, sono grandi icone della storia del rock che sono morte anche prima, però effettivamente lui ha 40 anni, questo stupisce sempre perché se uno pensa all'importanza che questi nomi hanno avuto, a quante cose hanno realizzato, poi però non ci si rende conto che sono vide che sono durate veramente poco da un punto di vista temporale, l'hanno dato tantissimo, no? Nel 42, a vederlo, uno gli avrebbe dato anche 20-30 anni di più, effettivamente, però la fine di Elvis avviene proprio a 42 anni. Come affermano Ernesto Assante e Gino Castaldo, proprio a proposito di Elvis, c'è da dire che per assurdo, dicono Castaldo e Assante, colui che ha contribuito più di ogni altro alla rivoluzione del rock è diventato nel corso della carriera un'ambigua e in un certo senso tragica caricatura di se stesso, il simbolo di un'America opulenta, miope e drogata. Anche questo è interessante perché se Elvis diventa il simbolo e l'icona dello spirito americano lo è negli anni 50, la nazione che ha appena vinto la seconda guerra mondiale, ma lo è pure negli anni 70, nel momento della decadenza dello stesso Elvis, perché diventa proprio il simbolo dell'arroganza americana e perciò ovviamente se uno pensa a 77 di mezzo veramente c'è tutto il cambiamento della storia rispetto agli anni 50. E perciò Elvis diventa anche questo. Se volete anche suo malgrado, perché ripeto, nel film viene raccontato anche il rigatto fatto dal colonnello Parker, in qualche maniera lo giustifica per via dei problemi finanziari di Tom Parker, però effettivamente Elvis negli anni 60 è un artista fuori tempo massimo che tenta questa maldestra carriera a Hollywood e che riesce a rilanciare la sua figura a sopravvivere con questi show, come vi dicevo, autocelebrativi in qualche maniera. In questo contesto, guardate, sempre per fare riferimento a chi c'era l'anno scorso, è un destino, sì è vero, condiviso con me, ma mi viene in mente anche Michael Jackson a tal proposito. Michael Jackson probabilmente non ha avuto, è stato il Tom Parker di se stesso, Michael Jackson, d'accordo? La cosa che caratterizza Elvis, che poi era un'altra epoca, 30 anni prima, è che Elvis effettivamente è finito vittima della macchina nello spettacolo e in qualche maniera anche dal controllo di una figura esterna che era quella del colonnello Parker. Quello che accade effettivamente con Michael Jackson è che Michael Jackson, se volete anche meno ingenuo, però comunque anche lui finisce vittima del suo stesso personaggio, a distanza anche di più anni, però sicuramente anche lui vive la stessa parabola decadente e tragica. Perciò ci stiamo riferendo all'ultima esibizione. L'ultima esibizione, l'andiamo a vedere oltretutto, credo che sia il video, l'unico video, il video disponibile dell'ultimissima, non so se è proprio l'ultimissima esibizione perché sarebbe morto due mesi dopo, siamo nel giugno del 77, sarebbe morto due mesi dopo, nel frattempo forse ci sarà stato qualche altro concerto, però fra i video disponibili, credo che questo è il documento estremo di Elvis, vi chiederete di ascoltarlo e anche di vederlo perché l'elemento performativo, per quanto sia glorificante nella fase di successo negli anni 50, però il corpo ha un senso, seppur invertito, tragico, decadente, anche in questa fase qui, nella fase finale di Elvis. Un'esibizione storica straordinaria, non so se avete notato anche il pubblico, c'è da dire che i concerti degli anni 70, già quelli alla fine degli anni 60, effettivamente non avevano più, c'erano anche dei giovani, però erano quelli che già ascoltavano Elvis negli anni 50 erano cresciuti, effettivamente negli anni 60 i giovani già stavano ascoltando altro e questo è una cosa che bisogna ribadire. E in qualche maniera per chiudere questo nostro percorso, ovviamente questi episodi, ripeto, questi appuntamenti sono scanditi proprio temporalmente, perciò molte delle cose che sono state anche annunciate oggi è normale che ritroveremo quando andremo a parlare dei Beatles e della rivoluzione degli anni 60, però ci tengo anche a precisare che probabilmente, questo non abbiamo la possibilità di dimostrarlo per ovvie ragioni, però la storia del rock e la storia della cultura pop in generale, se le cose non fossero andate così sarebbe molto differente, nel senso che quello che rappresenta anche come metaforicamente per quello che ha vissuto Elvis è qualcosa che si sarebbe riverberato nel corso del tempo per tutto il Novecento fino ad arrivare agli anni 90 e anche ai giorni nostri. Quando uno parla effettivamente della dinamica, quella trionfalistica del mercato capitalista e consumista, in realtà dietro ai lustrini, proprio i lustrini nel senso che poi ha a che fare proprio con la sua modalità di abbigliamento a un certo punto in poi, il fatto che si tratti sempre di un tentativo di occultare qualcosa di estremamente tragico e quello che sfugge è anche perché il mondo dello spettacolo cerca di occultarlo sempre e comunque, è che dietro al mondo del trionfo dello spettacolo c'è sempre qualcosa di estremamente tragico, delle dinamiche che sono veramente tremende, che riguardano effettivamente anche il modo di consumare alcuni personaggi, alcune grandi personalità, come questo è il caso di Elvis. Stavo dicendo, effettivamente non abbiamo la dimostrazione del contrario, però bisogna pensare che in quella temperie culturale musicale delle origini del rock'n'roll, a favorire anche il fatto che si sia imposto Elvis come grande personaggio, oltre all'intrapendenza di Tom Parker, oltre alla grandezza di Elvis Presley, c'è anche un altro fenomeno da prendere in considerazione, che molti personaggi morirono molto prima di Elvis. In quella stagione culturale mi viene in mente un nome su tutti, ma sono diversi, Buddy Holly. Buddy Holly è un interprete che morì intorno ai vent'anni, ventidue anni, ed era nella fase proprio iniziale, negli anni cinquanta, faceva dei numeri e dei passaggi radiofonici che erano in competizione con quelli di Elvis proprio. Morì in un incidente traggio, in un elicottero. Molti altri nomi proprio in quella stagione, perché il rock'n'roll nasce grazie al contributo di diversi personaggi. Il fatto che si sia affermato Elvis, in qualche maniera è anche qualcosa di... fa venire le vertigini pensarci, perché è come se su quello che ha fondato Elvis con la sua immagine, con la sua parabola tragica e decadente, ci fosse già dentro tutta, gran parte del destino della cultura del Novecento, sia che abbia a che fare con la musica, sia che ha a che fare col cinema, sia che ha a che fare con la società dei consumi, insomma. Questo probabilmente lui non l'avrebbe voluto, e sul perché lui si sia ridotto anche per i barbiturici, le droghe, anche il rapporto con le droghe, no? Cioè quello è un altro elemento che caratterizza, poi dipende di che cosa chiamiamo droga, però fondamentalmente caratterizza Elvis, è stato il primo, e ce lo ritroveremo per tutta la storia del rock, concepito in maniera differenti, in maniera anche antitetica spesso, a seconda dell'epoca e del modo in cui vengono assunte, però lo troviamo già in questo fenomeno originario che è Elvis. Sul dibattito, se lui, se poteva finire altrimenti la sua vicenda, già mi sono pronunciato, secondo me Elvis era questo e non poteva che finire così, sul perché lui abbia continuato fino allo sforzo finale, non sia riuscito comunque a recuperare la sua vita, il film, come sapete, da chi l'ha visto, dall'interpretazione per cui era stato ricattato dallo stesso Colonello Parker, che aveva le sue ragioni perché era andato in bancarotta e gli servivano soldi. Secondo me probabilmente le cose potrebbero stare così, ma probabilmente ha a che fare con la sua stessa, probabilmente non si poneva neanche il problema, cioè Elvis Presley non poteva smettere di essere Elvis Presley, d'accordo? E questo poi si ritrova in moltissimi altri personaggi, Michael Jackson, chiunque altro. Queste sono carriere per cui uno non può appendere, come si dice, la chitarra al chiodo e mettersi a fare altro nella vita, non so spiegarmi altrimenti. Tu ormai hai dedicato la tua anima, hai fatto anche il tuo patto con il diavolo per diventare quel personaggio lì e probabilmente tu gli devi la vita e in qualche maniera poi la vita se la riprende in un modo o nell'altro, il diavolo a cui l'ha consegnata che era stato successo. Parlavo di rito sciamanico, ma c'è proprio un patto quasi demoniaco di questi personaggi, del loro successo nei confronti dello show business, e lo show business poi ti chiede indietro la vita che gli hai dedicato dopo il successo che hai avuto. Ci sono dei casi in cui si riesce a tirarsi fuori da questa dinamica, però sono molto rari e molto... Non è il caso di Elvis, perché effettivamente Elvis ha dovuto sacrificare la sua vita per il successo e non poteva fare altrimenti, perché ormai lo show business si era preso praticamente tutto. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Rock Sofia che sarà dedicata alla rivoluzione degli anni 60 e appunto ai Beatles e riprenderemo il percorso proprio partendo da qui, vedremo quali sono i concetti che ovviamente per i Beatles, già se era poco il tempo dedicato a Elvis per i Beatles viene elevato a potenza, però sicuramente ci sarà utile, c'è stato utile l'appuntamento di oggi per comprendere qual è la grande rivoluzione anche a livello immaginario che avviene proprio con gli anni 60. E grazie dell'attenzione, grazie mille. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.